Questo giardino è diventato un giardino della memoria, un giardino vissuto, vissuto dalla comunità. Ognuno di questi alberi è intitolato, è dedicato a un caduto, un caduto per mano mafiosa. Il questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, insieme con la signora Concetta Martínez Montinaro, consegna a Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo della diocesi di Palermo, l'olio ricavato dagli olivi che crescono presso il giardino della memoria. Grazie a tutti.